ciao a tutti oggi prepareremo il risotto marie monti il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa ingredienti sono riso di tipo carnaroli preparato ai frutti di mare funghi mischi pisellini cipolla olio evo vino bianco dado vegetale bimbi acqua sale pepe e prezzemolo tritato diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla ed azionare il bimbi per tre secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio ed insaporire per quattro minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere i pisellini e preparato ai frutti di mare ed azionare il bimbi per tre minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere il vino bianco ed azionare il bimbi per tre minuti 100 gradi anti orario velocità soft senza misurino per 5 minuti e pranzo 80 gradi aggiungere il riso aggiungere il bimbi per me chi è soft aggiungere i funghi il dado il pepe il sale e l'acqua mescolare con la spatola e cuocere per 18 minuti 100 gradi anti orario velocità soft con il cestello al posto del misurino il riso è pronto impiattare spolverizzare con il prezzemolo tritato e servire risotto mari e monti grazie e alla prossima ricetta grazie Grazie a tutti.